A quanto ammonta l'assegno ordinario o la pensione ordinaria, questa è una domanda che mi viene fatta spesso, diversamente dall'invalidità civile che ha delle somme fisse, delle prestazioni economiche fisse, l'invalidità ordinaria è diversa in quanto viene calcolato tutto il periodo contributivo, poi viene calcolato il tipo di lavoro che si fa, se è un libero professionista ad esempio, oppure se è una persona che lavora nel privato a tempo con contratto subordinato, se ci sono dei part time, insomma è un calcolo ben diverso, pertanto non è possibile rispondere a questa domanda senza avere la documentazione opportuna, comunque su internet adesso si trovano dei programmi che possono fare anche questi tipi di calcoli o comunque approssimativi.